Bentornati sul canale, bentornati sul canale. Dunque tutto o quasi invariato nelle zone alte di classifica perché? Perché fanno un bel regalo all'Inter che ieri era stata fermata sul 2-2 a Monza sia la Lazio che il Milan, riassunto delle puntate precedenti. L'Inter ha pareggiato con il Monza, sappiamo tutti come, che tipo di partita è stata, l'abbiamo analizzata c'è stato poco da analizzare francamente perché era sotto gli occhi di tutti ma insomma Inter totalmente defraudata, al di là di meriti e demeriti la differenza è sempre una, sui tuoi difetti puoi agire, sui difetti di altri no e quindi diventa anche complicato lavorare già sui propri limiti figurarsi sui limiti di altri, in questo caso della squadra arbitrale e lì proprio non puoi farci nulla è stato un errore molto molto grave, tant'è vero che si parlava di sospensione lunga alla stregua di Serra dell'anno scorso che ha rivisto Big Match dopo circa 6-7 mesi in Serie A se non ricordo male, o grandi squadre più che Big Match invece dalle ultime pare che Sacchi verrà fermato solo un turno bene, bene, ne prendiamo atto, ne prendiamo atto questo è il metro, ci sta, no? del tutto coerente con la pochezza della classe arbitrale italiana almeno nel campionato italiano perché poi vediamo che quando arbitrano nelle coppe sia di club che di nazionali le figure sono migliori sarà colpa anche dei giocatori che si trovano ad arbitrare? chissà sarà colpa di una serenità diversa? chissà sta di fatto che in campionato il livello è bassissimo detto questo cosa è successo nella giornata di oggi? ieri chiaramente la Juventus aveva strappato i soliti tre punti nel finale di gara dopo una prestazione che definirlo opaca è fare un complimento alla squadra di Allegri con anche lì una trattenuta in aria Juventina sullo 0-0 di Alexandro molto, molto, molto discutibile come erano molto, molto, molto discutibili i due gol annullati alla Cremonese e vedete che tra due punti e sei punti ci passa poco il filo è molto sottile quindi adesso Juve seconda alle spalle del Napoli perché? perché il Napoli nel frattempo ha battuto la Sampdoria e anche qui, devo dire, vittoria meritata del Napoli con la Samp in dieci giorni nel primo tempo per un rosso a mio modo di vedere, sacro santo per Rincon non tanto per fallo in chiara occasione da gol quanto per intervento veramente pericoloso che ha messo a rischio l'incolumità di Osimen in trataccia, forbice, in spaccata altezza gamba, brutta, brutta, brutta e soprattutto spero che il metro sia sempre questo quando non puoi prendere pallone e vai solo diritto sull'uomo addirittura da Tergo questo era di fianco, spesso vediamo anche interventi da Tergo poi essere sanzionati col giallo come a una sorta di grazia e no, questi falli vanno giustamente sanzionati col rosso e invece discutibili due rigori il secondo, che poi ha chiuso il match comandato dal Napoli in maniera anche agevole anche grazie alla superiorità numerica il secondo, restiamo sempre in quel campo che per mio gusto calcistico non è mai calcio di rigore perché Vieira entra sul pallone la palla poi gli arriva sul braccio il braccio è largo, è vero, ma sono a 20 cm quindi anche lì e non è neanche un tiro in porta era un tentativo di passaggio all'interno dell'area di rigore il primo rigore, francamente è inguardabile è inaccettabile soprattutto perché Abisso non lo fischia live viene richiamato al VAR e davanti al monitor accorda rigore con Mur e Anghissà che vanno spalla contro spalla poi Anghissà cade davanti a Mur che nell'incedere calpesta la caviglia di Anghissà che già era a terra non lo so dobbiamo far diventare i giocatori i fantastici quattro magari l'uomo invisibile che dopo un contatto scompaiono e quindi non toccano l'avversario un po' nella stregua del giallo di Eris Klinar che va sul pallone e poi colpisce l'avversario a munizione lì per carità può starci il fallo a munizione secondo me deve essere una cosa diversa quindi detto del Napoli che riprende il cammino dopo prevedibilmente sul campo della Samp dopo il KO dopo lo scivolone di San Siro con l'Inter la Juve che tiene e ci sarà venerdì Napoli-Juventus venerdì sera Napoli-Juventus dietro alle spalle frenano tutti frena Lazio e frena il Milan due partite più o meno che hanno ricalcato lo stesso Canovaccio e che qualcuno lo chiama karma termina in parità col medesimo punteggio dell'U-Power Stadium due a due nei minuti di recupero Lazio che sembrava aver archiviato la pratica a Impoli all'Olimpico e invece negli ultimissimi minuti prima Caputo poi Marin hanno rimontato i giocatori biancocelesti che dunque restano a tre punti dal quarto posto dell'Inter quando già tutti si stavano fasciando la testa adesso ci rimonta la Lazio adesso ci rimonta la Roma adesso si stacca il Milan adesso oddio come facciamo e invece l'Inter è lì a tre punti dalla Juve e ha più tre sulla Lazio e ha più tre anche sulla Roma perché? perché nel frattempo nel posticipo di San Siro nel posticipo domenicale perché poi la giornata in realtà si chiuderà domani nel posticipo domani lunedì per chi magari segue lunedì questo video mentre nel posticipo anche qui uguale Milan che sembrava aver chiuso la partita col gol di Pobega nel finale di match nell'ultimo quarto d'ora dopo il gol di Calulu su Piazzato marcatori come vedete anche un po' naif un po' anche a fotografare quella che è stata la partita di San Siro in cui il Milan ha sostanzialmente guidato senza particolari difficoltà fino al 2-0 dopodiché si è svegliata la Roma come si è svegliata su due calci piazzati prima un calcio d'angolo i Bagnets all'ottantasettesimo e poi in pieno recupero ancora piazzato palla che si impenna arriva prima di tutti il pareggio di Abram che è bravissimo in tap-in su respinta dopo un colpo di testa sempre di Bagnets se non ricordo male che è spinto da Tatarushanu e quindi altro 2-2 quindi altro 2-2 che tiene il Milan a più 3 dall'Inter ma viene appaiato dalla Juventus e soprattutto perde due punti dal Napoli questo cosa cosa ci cosa ci ci insegna non è un caso è quello che vi stavo dicendo dicendo in questi ultimi video io si parlava di un Milan che era tornato schiacciasassi quando nell'ultima partita a Salerno per poco la Salernitana non faceva quello che ha fatto oggi la Roma che ha fatto ieri il Monza che ha fatto oggi l'Empoli la rimonta negli ultimi minuti soprattutto su calci piazzati può capitare sempre di tutto un gol ci può scappare poi se dobbiamo analizzare la prestazione il Milan per gli esteti meritava la vittoria l'Inter ieri meritava la Lazio anche oggi meritava la vittoria l'Inter meritava la vittoria l'Inter l'avrebbe meritata non solo per gli esteti o per le occasioni create per gli esteti forse no visto che nel secondo tempo con umiltà si sono chiusi concedendo zero al Monza se non un colpo di testa su piazzato meritava perché il gol l'aveva segnato ed era regolare e adesso qualcuno parla di pericolo scampato parla di trenino sempre più stretto alle spalle del Napoli io in realtà vi parlo di di rammarico di rammarico proprio per questo motivo perché partita sofferta senza altro giocata con un secondo tempo in apnea barra in difesa per limitare i danni magari consapevoli dei propri limiti perché quante volte abbiamo detto Inter che non legge gli attimi momenti della partita continua con la sua identità di andare a far male e prende i gol in ripartenza quante volte è successo quante volte è successo e invece ieri l'Inter comunque un po' come col Barcellona ha studiato l'avversario e ha capito che evidentemente tant'è vero che poi negli ultimi 15 minuti 20 minuti anche con i cambi che si erano assestati dopo quel tourbillon di sostituzione al centrocampo l'Inter aveva ripreso in mano non dico il pallino del gioco ma il controllo della situazione non concedendo nulla e andando avanti poi si fiorano il gol facendone un e questi sono punti e questi sono punti se nella prima parte l'Inter ha perso diversi punti soprattutto per propri demeriti ieri sono due punti tolti da da un arbitraggio indecente e nessuno si offenda ma è così aggiungete oggi come dicono come dicono sempre con la Juventus con la partita della Salernitana senza considerare magari altre e c'è del rammarico grosso grosso secondo me grosso rammarico perché con due punti più l'Inter praticamente era lì al ridosso di Juve e Milan e staccava ulteriormente Lazio e Roma ringraziate Sacchi e ringraziate anche evidentemente Rocchi che ha giudicato un errore grave ma non gravissimo tanto che secondo Repubblica io non ho evidenze su questo su questo argomento altrimenti ve l'avrei detto immediatamente secondo Repubblica sarà sospeso ma solo per una giornata e buon campionato a tutti allora un saluto